e buon pomeriggio a tutti benvenuti nel mio canale allora se come ben notate mi trovo in camera con questo popò di malloppo di panni e da questa da questa parte quelle gambe sono di anne che abbiamo detto mi ha detto che mi voleva organizzare l'armadio e ha consentito perché lei comunque è meravigliosa e quindi ne approfitto io gli do una mano però lei la mente e io le braccia che gli passo giustamente alle cose e adesso mi sta pulendo l'armadio sotto abbiamo già organizzato ma c'è lei con la scala quindi non vi posso far vedere però poi alla fine faccio vedere tutto il risultato finale ma sta venendo un buon lavoro comunque vi poggio qua sottofondo la montagna che ci stanno anche cose che devo comunque eliminare e Sì, sì. Sì, sì. Buongiorno, buon primo pomeriggio. Questa mattina mi sono tutta con un mal di testo atroce, poi pian pianino con una bustina passata. E quindi come inizio settimana niente male, non ho fatto granché, c'è proprio lo stretto è necessario. E niente, abbiamo messo delle buste sul tavolo. Hanno messo delle buste sul tavolo e vabbè c'è un po' di tutto, spero che in giro la fotocamera. E con la blu o con la colla a caldo? C'è la colla a caldo o con la blu? No. Come sai? Di che colore c'è? Non lo so, devo guardare. Con quei colori, con la scatola dei colori. Questo era un vaso mio che Anna ha debito a portare colori. Comunque a me mi ha dato questo qua che c'era una candela dentro e glielo devo decorare. Vediamo che cosa ne uscirà. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.